amici di Vivi Mazzara buon pomeriggio come preannunciato abbiamo in diretta Gianpaolo Caruso ciao Gianpaolo ciao ciao a tutti ciao grazie Piero allora in questa quarantena dobbiamo occupare il nostro tempo e abbiamo deciso noi di Vivi Mazzara di farlo attraverso l'obiettivo comune che è il bene della nostra città per cui incontrare le istituzioni i cittadini e parlarne è un modo non solo per occupare il nostro tempo ma soprattutto per dialogare con la città e con le istituzioni che ci seguono in questo periodo di covid ovviamente le riflessioni che ognuno di noi abbiamo fatto sono state tante nei liberi cittadini i polimitici gli errori fatti non fatti ed è bello parlarne qui a Vivi Mazzara ognuno del suo contributo libero noi siamo uomini liberi qui il colore non c'è abbiamo un colore solo che è quello della nostra amata città di Mazzara forse è quello che ci accomuna tutti Gianpaolo oggi abbiamo deciso di invitarti per sentire i tuoi pareri le tue opinioni cosa appuri dall'esterno le tue impressioni ma soprattutto le tue riflessioni Gianpaolo innanzitutto grazie eh direttore grazie a la redazione di Vivi Mazzara per avermi invitato a questa eh chiacchierata magari un tempo strana oggi eh nelle formule comunicative tremendamente attuale grazie per avermi invitato ogni volta che mi invitate io accetto con con grande piacere eh che cosa sta accadendo beh sta accadendo che ognuno di noi vive questo periodo con eh ovviamente le proprie considerazioni e lo fa al meglio delle sue possibilità c'è chi ha la forza di guardare avanti c'è chi ha bisogno di un sostegno o di sostegni di vario tipo per immaginare un futuro migliore e per la verità anche al quanto prossimo in termini di tempo eh perché la situazione che ci è venuta addosso a tutti quanti eh effettivamente ci ha colpiti anche dal punto di vista psicologico noi abbiamo vissuto eh giornate dove ciò che ci veniva eh ripetutamente raccontato da tutte televisioni dal nazionale al locale a volte in certi casi è stato anche reso conto quasi di un bollettino di guerra io ho ancora stampato in mente le le immagini di una Italia sofferente e soprattutto dell'emblema di quella sofferenza che insieme abbiamo vissuto ma ovviamente nulla di misurabile con la sofferenza vissuta da Bergamo dalla città di Bergamo tutta l'Italia si è stretta intorno e insomma è stata una cosa che ricorderemo per tanto tempo probabilmente forse non dimenticheremo mai ma bisogna guardare avanti e bisogna bisogna assolutamente eh vedere cosa si può fare per per riprendere al massimo delle nostre potenzialità ecco questo penso possa essere da da incipit a qualcosa che oggi raccontiamo ma che potevamo scrivere appunto ad inizio di un articolo se avessimo dovuto raccontare carta e penna questa quest'inizio di storia ecco mettiamola mettiamola così questo è questo è quello che mi sento di dire come inizio diciamo giampaolo è una premessa che secondo me richiude tanto in quello che tu hai detto no hai parlato di una di una premessa che richiude il difficile momento che noi italiani eh e gente del pianeta della terra ha vissuto no eh questa è la storia che un giorno i nostri figli studieranno a scuola come noi abbiamo studiato la spagnola eccetera io voglio approfittarne per dire che qualche sette fa sono arrivati i dati dell'ASP di Trapani per quanto riguarda la situazione in provincia siamo in netto miglioramento siamo arrivati a oggi siamo ad otto positivi ma Zara del Vallo è passato a un solo positivo che è in fase di guarigione per cui purtroppo da registrare il deceduto che abbiamo avuto eh a Mazzara e alla quale famiglia mandiamo l'abbraccio pieno di cordoglio assolutamente le cordoglianze e il cordoglio eh che che si devono è il minimo in fin dei conti per per una per una tragedia eh al pari di di tragedie che purtroppo abbiamo vissuto anche in altri momenti certo fa anche più scalpore la questione eh covid ma eh la vita umana e la vita umana al di là delle motivazioni che hanno portato alla cessazione appunto di un di un dono così importante. Come Gianpaolo eh un abbraccio eh di speranza e di ritrovata salute lo facciamo a coloro che sono guariti e che stanno guarendo. Assolutamente. Quello che tutti quanti ci auguravamo e poi un segnale di speranza per noi cittadini che abbiamo bisogno di rinascere. Io credo che in fin dei conti la gente poi in qualche modo ritrova la forza di di riprendersi di rimettersi sulle proprie gambe ci sono eh momenti già nella storia che hanno eh visto inciampare se volete l'umanità o parte di essa è è stato ricordato il momento tragico ma ne è stato ricordato ancora di più quella capacità innata dell'uomo di rimettersi in piedi e continuare a correre. Io penso che anche questa volta la storia ci abbia messo alla prova e noi dobbiamo farci trovare pronti eh nuovamente per far parte di una nuova pagina che racconti nuovamente la vita. Io mi voglio augurare meglio di quanto non l'abbiamo fatto eh singolarmente o come collettività. Forse questo è quello di cui abbiamo più bisogno. C'è un sentimento di eh collettività che non lasci indietro nessuno. Potrebbe anche essere una frase fatta ma eh ci sono eh momenti come questi in cui bisogna far diventare pratico un sentimento che dovrebbe essere eh innato. Eh ad ogni modo poi bisogna oltre alle speranze e la volontà di ognuno di noi di partecipare alla alla rinascita e alla ricrescita bisogna fare i conti con ciò che è stato e bisogna fare i conti con la realtà che è tremendamente più cura e più cruda scusate è tremendamente più cruda eh di quanto eh ce la ce la vogliamo in fin dei conti eh o ce la vogliono in fin dei conti. Ma infatti volevo arrivare su questo eh passaggio no? Perché tutti fin dall'inizio della pandemia già da due mesi eh con l'ottimismo mettevamo le scritte nel balcone i nostri figli scrivano eh Sloan ce la faremo no? Eppure stiamo accorgendo che è difficile farcela perché questo è un momento importante che viene indicato dall'alto ovviamente comanda la politica e noi cittadini ci dobbiamo attenere eh allo start che dà il governo. Il governo che purtroppo non si è dimostrato diciamo sempre preciso e puntuale nelle proprie esternazioni già difficoltà all'interno della maggioranza nel decidere eh cosa fare eh problemi secondo me anche nella comunicazione a noi cittadini perché tu non mi puoi dire ti mando 600 euro da due mesi che aspettiamo non mi puoi dire eh ti mando in cassa integrazione cioè prima di dirlo aspettate date un filo di ottimismo e quando siete pronti vi sbilanciate no? Non parlate di mascherine che devono arrivare in Italia eh e non sono ancora arrivati a cinquanta centesimi cioè questo governo è successo nel governo nazionale chiedere scusa ai cittadini da parte del premier cont come è successo nel governo regionale sulla cassa integrazione musulmese dire scusa ai cittadini ma siamo in mano a dei politici che sanno chiedere solo scusa cioè cittadini non hanno più soldi e si parla di miliardi continuamente e cambiano i decreti da marzo passa aprile, aprile, maggio eh adesso il riscatto, il rilancio c'è un gioco di nomi ma signori la situazione è in mano ai cittadini immedesimiamoci a loro perché un politico mi prende giustamente o non chi ventimila euro al mese chi quindicimila euro al mese e farsi vedere in televisione è molto facile ora non voglio andare a contestare lo stipendio dei politici ma almeno metteteci in condizioni adesso di vivere dalle famiglie alle attività non c'è ombra di dubbio che io condivido quello che hai appena esternato e io comprendo bene che ci siano situazioni che effettivamente fanno uscire dai gangheri però cerchiamo di fare un attimo di piccola cron storia noi facciamo conto che tutto un tratto è piombata questa situazione molto particolare e io credo che dal punto di vista della comunicazione io parlo a livello nazionale quindi il governo e sia dal punto di vista delle attività che ha svolto per combattere questo covid in fin dei conti la comunicazione è stata come posso dire tremendamente altalenante almeno per quanto riguarda l'inizio così come invece di anticipare in qualche modo l'effetto di questo virus in realtà ci si è ritrovati a rincorrerlo di giorno in giorno e questa fase di rincorsa è passata dall'aspetto sanitario fino all'aspetto economico ma rincorri oggi e rincorri domani i problemi venivano ad accumularsi noi abbiamo secondo me visto io lo dico in tutta franchezza noi abbiamo visto una gestione di questo covid che è stata più ideologica che pratica all'inizio si parlava andavano in giro tanti politici nazionali appartenenti alla maggioranza di governo dicendo che dovevamo tenere tutto aperto che dovevamo fare la festa dell'involtino primavera e poi abbiamo visto che forse non è stata la cosa migliore di tutti da fare noi ci siamo ritrovati con un lockdown durissimo che ha messo a dura prova la gente che è rimasta a casa in fin dei conti e si è comportata bene al netto di qualcuno che voleva fare il furbo ed è bene che insomma si siano presi dei provvedimenti e allora però ci si aspettava di fronte ad una situazione che man mano dal punto di vista sanitario si andava diciamo sistemando fino ai dati di cui parlavi poco fa tu quindi da Milano fino a Mazzara del Vallo si è innescato tutta una serie di problematiche economiche che al netto di una uscita dal problema sanitario sarebbe diventato in commente il problema economico ed è quello che in fin dei conti va analizzato quando ci riferiamo alla questione della della rinascita e della ripresa noi facciamo conto che durante tutto questo periodo di covid lo stato il governo lo stato ha assicurato tutto ciò che dipende dai pagamenti degli stipendi statali quindi tutti quelli che appartengono al servizio pubblico compreso e ci mancherebbe a buona ragione dei nostri eroi che appartengono alle forze della sanità con la loro divisa il loro camice anzi faccio come posso dire prendo al volo l'occasione per ringraziarli tutti quelli che conosco che mi vengono amici e quelli che così più nobilmente mi piacerebbe averli tra oggi è la giornata dell'infermiente degli angeli a livello sanitario per cui onore ai medici agli operatori sanitari alla maniera più categorica lo stesso anche per le nostre forze dell'ordine fanno il loro lavoro e devono farlo anche rispetto magari a situazioni particolari ora mentre lo stato pensa a tutto questo e quindi c'è tutta una tutela per tutto questi pagamenti di stipendi anche per la parte economica sociale che lo stato rimpingua io parlo delle carte rei parlo dei redditi di cittadinanza parlo anche delle pensioni però non si è occupato e non si preoccupa bene di ciò che consente allo stato di poter continuare a rimpinguare questa parte del servizio pubblico cioè tutta quella parte di ceto produttivo che sono i capi si chiamano partite iva che sono gli autonomi che sono i professionisti e che in poche parole sono appunto il motore della produzione italiana non solo produzione dal punto di vista ognuno del proprio prodotto individuale che fa parte della catena della produzione italiana ma si tratta di un motore che appunto consente allo stato di potersi vantare nel mondo e al tempo stesso di far camminare quell'altra parte che è comunque vitale per lo stato e allora che cosa è accaduto in tutto questo che questo ceto produttivo è stato in qualche maniera abbandonato e in certi casi è stato trattato come se fosse l'ultimo degli arrivati facevi poco fa riferimento alla questione delle 600 euro intanto proprio per la cifra mi sembra tremendamente irrisorio rispetto ai danni economici che la parte produttiva riceve a fronte delle tasse che paga e delle fatturazioni che avrebbe potuto emettere se non ci fosse stato tutto questo pandemonio e poi oltre al danno anche la beffa dell'attesa persino di queste molliche che ancora continua perché si sa che in parte non non è arrivata nemmeno a destinazione in per quanto riguarda la cassa integrazione sappiamo tutti quanti che ci sono dei ritardi sappiamo tutti quanti che questi sono dovuti alla lentezza burocratica nelle regioni e anche in particolare nella regione sicilia io giorni fa mi domandavo per esempio ci sono delle figure lavorative anche in sicilia credo che siano circa 429 che si chiamano i navigator cioè sono quelli che avrebbero dovuto e che dovranno nei prossimi due anni trovare non il lavoro tre offerte tre offerte di lavoro più o meno a quelli che prendono il reddito di cittadinanza che cosa succede però tanto per parlarne chi è precettore di reddito di cittadinanza in questo momento per decreto per decreto non ha l'obbligo di accettare le eventuali proposte che gli vengono quindi se questi navigator non gli hanno trovato un lavoro prima del covid figuriamoci che cosa possono trovare adesso che è tutto fermo allora mi chiedo ma perché per esempio almeno i 429 che sono in sicilia non si mettevano in forze alla regione sicilia per accelerare il disbrigo delle pratiche per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga punto di domanda ed è voglio dire la risposta è anche abbastanza chiara quindi noi paghiamo il cetto produttivo in particolare paga lo scotto non solo dell'inconsistenza delle proposte ma anche della lentezza delle possibili soluzioni inadeguate dal punto di vista quantitativo monetario e inefficace dal punto di vista della tempistica e allora è normale che poi la gente si arrabbia è normale che poi la gente preme per uscire anche confortata dai dati che dimostrano la diminuzione almeno dalle nostre parti in maniera radicale dal punto di vista del del contagio che poi diventa motivo per cui le regioni come è successo per la regione calabria tentano di fare il proprio avendo di fronte un governo che poi impugna le ordinanze e li fa chiudere per quanto per una settimana perché si riapre il 18 siamo a giorno 11 quindi abbiamo una discrepanza totale tra l'economia reale del cetto produttivo che chiede aiuti concreti e un governo centrale che risponde sotto forma di incentivi che poco funzionano che poco arrivano e che pochi effetti emetteranno ma che con una prassi burocratica davvero lunga eh attenzione una prassi burocratica lunga guardi è stato annunciato in pompa magna con una delle più belle conferenze stampa che io abbia mai visto da quando seguo la la politica anche con più criterio eh di quanto avrei potuto fare tantissimi anni fa è stata annunciata una potenza di fuoco di 400 miliardi sembrava che tutto un tratto le imprese non avevano più il posto dove mettere i soldi la verità erano 400 miliardi di promesse inutili legate al massimo a garanzia che lo stato dava alle banche qualora le imprese volessero andare dalle banche a chiedere un prestito fino a 25 mila euro pari praticamente al 25 per cento del fatturato dell'anno scorso quindi forse 25 mila euro se tu presentavi fatture degli anni passati eh eh fino a 100 mila euro perché il 25 per cento è quello e poi scopri che per poter avere eventualmente saresti in grado di sostenere un ulteriore debito ai danni già che hai quindi vedete vedete che 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 particolarità se fossi stato in grado di sostenerlo avreste dovuto addirittura anche sostenere una serie di passaggi di moduli di contromoduli e cose di questo tipo che sono snervanti e non sono la soluzione noi parliamo di imprese che durante tutto questo periodo hanno bruciato bruciato due mesi finito non c'è più niente io sono d'accordo per le imprese per le imprese ci vuole il fondo perduto ma quantomeno ce ne vuole una quota in fondo perduto che avrebbe portato le imprese in questo momento a non avere il motore ingolfato ad avere avuto una sorta di quantità di riserva come benzina per poi poter iniziare a camminare e e vedere insomma come poter uscirne adesso ci ritroviamo con il doppio problema analizziamo un secondo prendiamo per esempio tutto il settore turistico e quella parte che è collegato un po più specificatamente al turismo quindi mi riferisco alla ristorazione che poi per noi è il fiore all'occhiello se volete anche del made in Italy insieme al settore della moda e altri ma parliamo del turismo che interessa la nostra città alla provincia alla regione siciliana e in tutta l'italia in provincia di trapani ci sono circa 35 35 mila posti di lavoro 8 tra 8 e 9 mila posti di lavoro legati a tutte quelle strutture alberghiere ed extra alberghiere che in questo momento soffrono e soffrono tremendamente perché il turismo ovviamente si è bloccato e soffrono per tre ordini di motivi perché al netto di ciò che si presenta solo come incentivo i famosi voucher bonus per fare una notte a pagamento da parte della regione e dello stato rimangono i problemi legati al sostegno economico delle quote a fondo perduto di cui parlavamo che non esiste l'altro problema è che dovrebbe essere in questa nuova manovra se arriva guardi su guarda pietro sul ci dovrebbe essere e siamo ancora sulla fase del condizionale per cui non siamo non siamo sul condizionale e me la voglio vedere tutta e comunque il condizionale non vorrei che presupponga a condizione di che a prezzo di che vediamo prima vediamo e poi discutiamo al momento questa è la situazione non c'è sostegno economico le strutture alberghiere ed extra alberghiere insieme alla ristorazione non hanno un protocollo sanitario ben definito che li tuteli dal punto di vista anche giuridico da quello che potrebbe accadere durante il loro servizio sia per chi è vacanziero sia per chi è loro dipendente perché potrebbe accadere anche un contagio durante il periodo di servizio e questo esporrebbe l'albergatore o il ristoratore a sanzioni penali penali si va sul penale e questo è già un grande un grande un grande problema è inutile è inutile nasconderselo allora di cosa vogliamo parlare lo stesso si dica per quanto riguarda le spiagge quindi i responsabili degli di balneari voi vi rendete conto che in questo momento anche loro non hanno un protocollo ben definito grazie al quale dovrebbero riorganizzare gli spazi quantomeno del posizionamento interno degli ombrelloni nell'area concessa ma se tutto va bene chi poteva mettere cento ombrelloni oggi ne metterà il 65 70 per cento in meno lo stesso dicasi per chi ha delle strutture ristorative legate alla parte esterna vuoi che sia de or vuoi che siano gazebi per il numero di tavolini che deve mettere e io qui voglio riflettere insieme a te caro direttore perché vedete io ho l'impressione che ci sia una sorta di gioco ad elastico ma voglio spiegarmi meglio io non vorrei che in questo momento si pensi di incentivare e per carità qualcosa si deve pur fare certo si cerchi di incentivare l'allargamento delle porzioni di suolo pubblico in favore delle strutture ristorative perché possono continuare a mettere sempre lo stesso numero di tavolini però ovviamente su uno spazio più ampio ma non vorrei che questo diventi lo specchietto per gli allodole perché questo tipo di imprese non riceva nessun aiuto economico e glielo dimostro facendo l'esatto processo contrario se domani mattina si potesse con una firma cancellare il covid come se si firmasse un armistizio di guerra bene si sarà riportati alle condizioni iniziali la situazione della ristorazione cioè dire avrebbero tutti gli spazi che avevano prima con i tavolini tutti vicini perfetto tutto sistemato lo stesso valga per gli ombrelloni rimane lo stesso il problema economico di tutto ciò che hanno bruciato e che ormai è finito che è accompagnato da un semplice spostamento nel tempo di tasse di ogni ordine grado questa è la situazione e non si può pensare di rimpinguare questa parte di perduto avvicinando a queste a queste imprese a tutte le partite iva la possibilità di chiedere un prestito di potere fare altri debiti e se poi questo prestito non lo può pagare chi paga mi direte paga lo stato perché ci ha messo la sua garanzia mi viene da pensare ma se lo stato dovesse pagare per chi non può più rispettare l'accordo con la banca per esempio tra quelli che lo hanno che hanno ricevuto il prestito vedete che attenzione il debito che sia nei confronti della banca lo si avrà nei confronti dello stato che avrà probabilmente i suoi mezzi per poterteli venire a chiedere e che pagherebbero i cittadini e ma giochiamo al gatti al topo il gioco delle tre carte allora la situazione è di questo tipo si sarebbe dovuti intervenire con delle quote a fondo per tutto che in pieno stile dell'organizzazione aziendale delle piccole e medie imprese parliamo di 5 milioni 250 mila partite iva che si sono formate sulla base dell'imprenditoria della propria famiglia sono su base familiare ma portano avanti un paese questa è la situazione allora giampaolo dal 18 probabilmente ci sarà la riapertura di parrucchierie centri di estetisti secondo me anche ristoranti trattorie pizzerie eccetera ma il problema forse arriverà dal 18 in poi mentre oggi si può fare l'asporto e sono state date delle direttive bene o male insomma qualche locale ha iniziato da aprire i battenti non tutti comunque anche perché c'è poca mentalità sull'asporto eccetera non siamo a milano eccetera però quello che dico io i problemi inizieranno proprio dal 18 perché ancora come dicevi tu gli stabilimenti balneare non sanno che direttive adottare possono montare il bar e non gli ombrelloni puoi montare gli ombrelloni è la minima spesa però se devono andare ad acquistare delle strutture eh anti covid è chiaro che eh devono affrontare le spese devono organizzarsi altre spese ancora e a loro quale sostegno arriva punto interrogativo non basta dire non facciamo pagare il demanio per l'anno duemila e venti e poi tanto male che lo stabilimento balneare non apre perché secondo me se apre lo stabilimento balneare senza avere venduto gli ombrelloni rispettando le giuste distanze sociali avranno avranno problemi economici e allora visto che non c'è nessun aiuto economico eh che si profila all'orizzonte per gli stabilimenti balneare bisognerebbe anche pensarci un attimo eppure in qualche maniera anche loro devono sopravvivere io penso quei ristoranti che dal 18 in poi ristoranti che hanno pochi metri quadri all'interno come fanno a mettere un tavolo ogni quattro metri se già un locale 50 metri quadri 100 metri quadri cioè eh e non hanno magari spazio all'esterno di poter mettere dei tavolini perché fino a quando abbiamo delle pizzerie che hanno spazio fuori all'esterno all'aperto siamo d'estate allora qualche pagoda bene o male ci sta allargarsi no? Guardi direttore ma eh non farebbe differenza ad entrambi perché persino chi ha eventualmente di fronte a sé ancora uno spazio da poter tra virgolette eh farsi concedere se vuole benevolmente aggredire con eh altri tavolini rimangono comunque due problemi il primo è sempre quello economico e il secondo che bisogna considerare è il fattore psicologico non è che è automatico che all'aumentare dei tavolini aumentano gli avventori perché li hai messi a quattro metri di distranza si dovrà pure anche fare il calcolo che ci sarà comunque un periodo durante il quale ci sarà una certa deterrenza nel ritornare all'aperto come si faceva prima e quindi che cosa significa? Che se prima si considerava che ogni ogni tre tavolini all'interno di una pizzeria garantiva lo stipendio al cameriere che serviva oltre al resto oggi la situazione è completamente al contrario quindi anche le formule di asporto e cose di questo tipo permettono tra virgolette in qualche modo di sopravvivere chi in questo momento lavora tenta di sopravvivere per non chiudere del tutto anche dal punto di vista alberghiero gli incentivi di cui parlavo prima se non ci sarà altro grande problema e ancora non si sa lo spostamento interregionale cioè tra le regioni è impossibile immaginare che le imprese alberghiere ed extra alberghiere possano sol campare di un mercato turistico fatto del regionale perché quello se non arriva a coprire il 20 il 25 per cento e con il 20 25 per cento migliaia e migliaia di strutture non arrivano nemmeno un pizzico su il punto oltre il quale realizzerebbero degli utili di impresa ecco la cosa su cui ci si arrabbia perché di fronte a tutte queste cose che io sto dicendo che sono anche il frutto di documenti inviati e sui quali si dovrebbero aprire un tavolo di discussione immediato e che porti a soluzioni ho l'impressione che ci si ritrova di fronte a un governo fatto di 450 ultrascienziati di non si sa bene che cosa che non sanno non sanno probabilmente dell'economia reale non lo so sarà banale ma ho l'impressione che sia ancora più banale prendere atto che forse sono abituati a premere un bottone e magicamente scompare davanti a loro una tazzina di caffè ma non sanno materialmente che cosa c'è dietro l'impresa che è stata costruita per realizzare un caffè dalla materia prima fino al servizio e allora questo covid ho l'impressione che abbia accelerato ciò verso cui tendevamo nella formula forse più critica della globalizzazione ha accelerato dei processi che hanno portato in evidenza il solco di differenza che c'è tra una finanza impressionante tra sistemi globali che se ne stanno strafregrando nelle particolarità locali e questo cozza col sistema identitario dell'italia questo cozza con il sistema produttivo identitario dell'italia ma lei si immagina come può continuare a produrre e ad essere riconosciuto in termini economici la qualità la creatività dei medi in italy se noi stessi ci applichiamo una burocrazia che ci sfilaccia l'anima nel momento in cui dobbiamo produrre e ancor più quando ci interfacciamo con i mercati esteri noi troviamo che il nostro grana padano o i nostri migliori prodotti hanno problemi ad essere riconosciuti perché da qualche altra parte hanno confezionato una pasta filante che fa schifo solo a guardarla però ci hanno messo il timore italiano sopra e chiusa la partita invece da riorganizzare tutto il sistema non solo della produzione della produzione intesa come tutti quegli incentivi a che sia conveniente fare imprese in italia direttore a che sia conveniente avere una partita iva e al tempo stesso alla difesa del met in italy tu cur ovunque a questo sia questa è una proiezione che deve cambiare totalmente l'assetto mentale ideologico del governo italiano ma non di questo che io penso che non avrà lunga vita ma di quello che mi auguro verrà in seno anche a queste mie modeste considerazioni guardi che l'aspetto dell'assistenzialismo a tutti i costi non è servito a nulla se non a provocare danno io non so se quello che sto per dire farà venire il mal di pancia a qualcuno ma bisogna dire le cose per come sono il reddito di cittadinanza sono sicuro che in qualche caso avrà dato una mano a qualcuno io non lo metto in dubbio ma dal punto di vista dei massimi sistemi non ha realizzato ciò che ci si aspettava c'è un'uscita da parte della persona che lo riceve dallo status quo che lo rendeva meritevole del reddito per entrare in uno stato grazie a un suo lavoro una sua impresa e tutto quanto questo non lo produce pensi se al posto del reddito di cittadinanza si fosse pensato a dedicare la stessa somma a quelle imprese che avrebbero aggiunto alle settecento e passa un'altra quota per potere prendere un lavoratore con sé si sarebbe realizzato lavoro si sarebbe indato dignità alla persona si sarebbe realizzato una maggiore produzione quella persona avrebbe avuto il suo stipendio e avrebbe partecipato oltre che alla produzione anche ai consumi e anche al pagamento delle tasse che vanno letteralmente abbassate ma abbassate in maniera drastica e al tempo stesso la burocrazia allora è il sistema che deve essere completamente rivoluzionato non è possibile che in termini blandi ma tremendamente veri stia diventando tra poco più conveniente ricevere una sussistenza assistenziale da parte che dello stato anziché vedere la propria capacità personale diventare imprenditori della propria del proprio prodotto delle proprie cose ed essere quasi come posso dire tacciato di essere uno che si merita le cose importanti cioè cerchiamo di la tua analisi è perfetta allora quello che anche per il mondo dello spettacolo anche per quello che le riguarda no 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 lì non esistiamo perché addirittura si parla ancora dobbiamo aspettare altri otto nove mesi c'è roba assurda guardi anche dal punto di vista cinemico tutto il lavoro che c'è l'indotto qui parliamo di una perdita dell'economia guardi c'è anche un problema esattamente c'è anche un problema da questo punto di vista legato al fatto che non è possibile che in un paese come l'italia io non voglio parlare del mondo parliamo dell'italia e in questo caso anche la sicilia nel senso che faccio focus sulla regione italiana chiamata sicilia non è possibile che un motore produttivo economico come l'arte come la cultura come i grandi eventi che promuovono la terra e tutti i suoi prodotti tangibili o intangibili che però hanno riscontri come se fossero un vero e proprio manufatto non siano inseriti come debbano nei sistemi della produzione economica italiana al pari di aziende che invece magari realizzano spilli o manufatti o testate per motori o altre cose che siano l'italia e l'italia perché può insegnare l'arte al mondo l'italia e l'italia anche la sicilia lo è come tante altre regioni d'italia perché può insegnare che cos'è la musica la cultura qualsiasi cosa queste cose devono essere letteralmente tutte latte non possono essere il frutto di una semplice aggregazione sotto forma di associazionismo e poi vediamo un po' che cosa succede ci vuole un ministero del turismo e della cultura che abbia la forza come se fosse un vero e proprio stato cioè lo stato del turismo e questo che deve diventare l'italia insieme a tutto quel apparato produttivo che fa non tanto da corollario ma che fa da arteria perché questo cuore continui a battere direttore se non si guarda in questa direzione noi avremmo forse traghettato le cattivissime acque di questo periodo ma ci ritroveremo di fronte al miraggio di una terra promessa al miraggio di una terra promessa che poi si scoprirà un'altra tempesta magari per un altro motivo e questo sta diventando letteralmente insostenibile glielo diciamo questo no tutto questo allora parte ovviamente dal governo centrale un attimo di politica giampaolo perché il problema sta a ammazzare diciamo l'upisci fede della testa no il il pesce puzza dalla testa la nostra testa è il governo e Roma se già a livello politico in maggioranza ci sono problemi tra quelle che la costituiscono e mi riferisco a Renzi a Zingaretti a Conte cioè se all'interno non trovano la quadra pensano ai cittadini che subiamo le conseguenze e non solo abbiamo anche un'opposizione nazionale che inizia a sgretolare perché vediamo un centrodestra dove la Meloni sembra andare d'accordissimo con Salvini e Berlusconi che ogni tanto vuol tirare le orecchie e gli altri non se le fanno tirare e che ogni tanto strizza l'occhiolino a filo governativo cioè sta accadendo qualcosa dell'inverosimile a livello politico qualcosa che ne condiziona lo status quo di noi cittadini italiani dico la verità secondo me non c'è nulla di nuovo sotto il sole i problemi che insistono in questo momento a livello nazionale all'interno della maggioranza non sono dei problemi che sono nati adesso questa maggioranza ha scelto di nascere grazie ai propri problemi ha scelto di nascere in seno ai loro problemi il movimento 5 stelle il partito democratico e l'italia viva di Renzi non è iniziato a litigare adesso hanno litigato tanto tempo fa ognuno di loro prima di arrivare in Parlamento ha fatto le campagne elettorali sputando fango l'uno sulle spalle o sulle facce degli altri e quando è andato via quel governo giallo verde si poteva tornare a fare elezioni probabilmente sì e invece che cosa è successo è successo che si è concretizzato uno dei più grandi inciuci della politica repubblicana degli ultimi degli ultimi anni o degli ultimi decenni se volete cioè coloro i quali si erano politicamente accoltellati fino a un giorno prima hanno tentato di raccontarci che si sarebbero comportati come gli agnelli un minuto dopo che cosa ci si aspettava da una maggioranza che è nata come frutto soltanto di un interesse di rimanere lì per dove sono ma che cosa ci si aspettava se non che anche in un periodo particolare del genere venivano fuori tutti i nodi sempre al pettine vanno guardi che la situazione del covid ha accelerato anche queste problematiche non c'è nulla di nuovo sotto il sole se fosse stato effettivamente tutto bello e tutto felice ma il movimento 5 stelle perché doveva perdere il 15 per cento se non di più del proprio elettorato le elezioni regionali che ci sono state finora perché avrebbero dovuto in termini di voto reale decretare una caduta libera nei territori cioè dove c'è la vita reale l'economia reale di cui parlavamo poco fa questo è quello che succede e siamo un passo dal baratro perché tra poco si vota per il mess tra poco si vota in aula tra poco lo vediamo se dovremmo assistere all'ennesima giravolta tra poco lo vediamo se chiederanno a russò di dare il proprio voto voglio dire direttore assolutamente no perché il PD vuole il mess e il il la lita all'interno del governo è proprio questa che il PD vuole il mess eh il 5 stelle purtroppo si sta ostinando il gruppo guardi c'è che per forza di inerzia l'Italia accetterà il mess guardi l'Italia accetterà il mess se ci sarà un parlamento che demanderà il capo del governo chi per lui a dire ok ci stiamo penso e spero che ci sia un voto parlamentare che dia un'indicazione e che faccia dire alle forze politiche da che parte stanno legittimamente come è giusto che sia finora noi non abbiamo visto un minimo di partecipazione parlamentare a decisione del governo noi finora abbiamo visto un governo che stampa degreti o al meglio ne fa prima annunci eh tramite la televisione e poi al massimo al massimo dopo avere cancellato un'infinità di emendamenti al massimo ne fa un'informativa alla Camera dei Deputati cioè va alla Camera dei Deputati e informa i deputati su ciò che ha già deciso questa è la situazione ma questa non è democrazia parlamentare ma vogliamo andare ancora vogliamo andare ancora avanti benissimo guardi che bisogna preoccuparsi di quello che fa la maggioranza perché l'opposizione fa l'opposizione l'opposizione dice la sua quando è chiamata di intervenire si si deve permettere di criticare in forma eh costruttiva ammetto delle vecchie politiche che esistono eh da sempre anche in periodi particolari ci sono sempre state ma chi deve dare risposte la maggioranza perché ne ha tutti gli strumenti per poterli dare allora l'interrogativo è finora le risposte che non è che provengono dalla opposizione perché l'opposizione non ci dorme la notte non sa cosa inventarsi l'indomani mattina l'opposizione fa le stesse cose che stiamo facendo io e lei in questo momento parla con i ristoratori parla con gli albergatori parla con le associazioni di categoria e sopra la base di queste di questi incontri scrive emendamenti scrive proposte. Se per questo il governo centrale parla con i sindacati è caduta la linea eh adesso mi senti Gianpaolo mi senti adesso? Si ci sono. Hai avuto qualche problema nel tuo diretto? Si ci sono. Eh non stavo dicendo. Poi il risultato è questo. Se poi passiamo al governo regionale dico lì intervengono i sindacati perché Conte ha sempre dato ampio spazio eh ai sindacati e lì si sono decisi a tavolino molti fattori importanti per il paese. Guardi io non metto in dubbio il governo non è che scopre l'acqua calda quando chiama i sindacati. Il governo chiama le associazioni di categoria perché ci siano i tavoli di discussione che poi devono ehm tradursi in azioni concrete. Si chiama tavolo delle trattative per intenderci perché non è che uno va lì chiede una cosa e te la danno. Voglio dire che non è un fattore automatico. Se fosse stato così bastava mandare una mail. No c'è bisogno di sedersi e discuterne e questo è anche il bello della eh democrazia. Ma non vorrei che si passasse alla perversione della democrazia dove si parla si parla si parla e poi alla fine non c'è nessuno che decide perché ho anche avuto l'impressione che ci sia una sorta di formula a scaricabarile nel dovere prendere decisioni. Poi il circuito si inceppe la decisione non viene presa. Ora se tutto questo succede a livello nazionale ma figurarsi cosa vuole che succeda dalle altre parti che in certi casi sono diciamo lasciate così come color che sono sospesi mettiamola in questo modo e le cose si ripercuotono a vari livelli. Andiamo in sicurezza. Io ritengo che ci sia di base una eh sorta di eh se volete c'è stata e c'è ancora una sorta di eh incapacità di affrontare una questione reale che gli viene presentata ogni giorno dai diretti interessati. Sono le cose di cui abbiamo parlato poco fa e sono delle cose che bisogna risolvere che bisogna risolvere. Io personalmente eh non credo nella formula del Messi che ci viene presentata senza eh condizioni o cose di questo tipo. Penso che sia proprio perché ce la vogliono eh come dire zuccherare. Penso che sia eh un bel cavallo di troica che in questo momento ce lo fanno passare come zuccherato, come caramellina durante questo periodo particolare e poi ritornerà ancora più pesante di quanto avremmo potuto immaginarlo. Bisogna stare molto attenti e questa sarà una responsabilità delle forze politiche che hanno la possibilità di incidere su questa su questa questione. Non c'è altro non c'è altro da aggiungere ma questo cavallo di troia da Roma che pensi possa partire eh in maniera così dolce e poi ce la fanno a parere zuccherata qualsiasi cosa che fanno pensi che possa coinvolgere il sistema politico regionale anche siciliano che sembra prossimo a un rimpasto regionale o ad un azzeramento della giunta dove si pensa che possa entrarne a far parte la Lega la Lega al governo della regione e Forza Italia addirittura di Forza Italia si fa il nome del mazzarese Tony Scilla eh come pensi che possa andare a finire politicamente questo eventuale rimpasto e come vedi la l'attuale situazione politica alla regione che pare un po' soffocata no? Ma personalmente eh ritengo che mh dalla costruzione dalla messa in piedi di questo governo eh nazionale eh la formula del castello di carte può reggere finché può reggere dopodiché ai rimpasti di giunta ci hanno anche fin troppo abituato io mi preoccupo eventualmente dei meriti che dovrebbe avere l'una o l'altra persona per andare a ricoprire eventuali eventuali incarichi a volte anche nella specifica che ha fatto lei l'ho sentito dire tante volte poi il risultato è stato contrario personalmente sono cose di cui io sinceramente non mi preoccuperei ma che significato avrebbe preoccuparsi del del cambiamento regionale in questo momento ma allora preoccupiamoci anche di cambiare il governo in questo momento o delle due l'una o è il momento adatto per pensare a cambi di governo o cose di questo tipo oppure non lo è sinceramente ritengo che in questo momento eh ciò che è legato a questione di poltrone di e di e di cambiamenti vari forse non è il momento più adatto questo non significa che non bisogna perciare e perché no Caruso fra due anni si vota perché no adesso è un momento propizio di iniziare a muovere le pedine no eh creare una forma di neogeografia politica e percorrerla stanno lasciando movimenti e candidati tipo il candidato Pietro Marino già si sa è ufficiale ha dato la sua disponibilità su richiesta dell'ex senatore a Papania di Giorgio Macaddino insomma nel movimento via c'è parecchio movimento eh attorno a a quelle che saranno le prossime elezioni e sembra questo per un attimo far dimenticare anche il covid guardi io penso che il covid non lo dimenticheremo così come non dimenticheremo che in periodo di covid c'è stato qualcuno a livello locale o nazionale che si preoccupava dove doveva movimentarsi prima per posizionare la propria persona perché tutti questi movimenti sono movimenti personali io non ho sentito parlare di contenuti e allora se cose del genere bisogna pensarne due anni prima mi aspetto che ci sia una un pensiero legato a programmazioni politiche che si preoccupano dello stato di fatto di cosa dovrà diventare l'Italia o la Sicilia nei prossimi 15-20 anni sinceramente di chi pensa di come doversi sistemare ora perché ricandidarsi fra due anni sempre che si candiderà per sapere lui che cosa deve fare personalmente sinceramente non è il mio primo pensiero sono certo che non è il pensiero nessuno né della gente che ascolta esternazioni di questo tipo mi piacerebbe che la politica ritornasse a essere politica mi piacerebbe che le persone che partecipano alla politica ritornassero a essere politici che si preoccupino cinque anni prima di ciò che dovranno realizzare per i vent'anni a seguire perché ogni persona che partecipa alla politica dal più territoriale dei livelli fino a quelli che arrivano fino a Bruxelles ha questo genere di impegno morale con le persone a cui chiede la fiducia e ancora oggi ancora più oggi ma cosa vuole che gliene può interessare alle persone che hanno il problema di cosa mangiare questa sera rispetto ai movimenti di qualcuno che pensa probabilmente a pancia piena di preoccuparsi del suo futuro e delle sue eventuali candidature guardi io faccio politica da tempo io ho iniziato con i pantaloncini corti come sul dirsi sono stato fuori dalle sedi istituzionali sono stato all'interno delle sedi istituzionali è stato una grande espressione della politica anche nazionale e stando anche al senato lo voglio ricordare con stima perché ho avuto l'onore di conoscerlo io ti ringrazio per il pensiero ma lei si immagina se se mi permette anche figlio di mio padre io potessi esternare pensieri che riguardassero solo esclusivamente la mia la mia persona ma ma insomma ma ma che figura allora dico una cosa molto semplice io lo voglio dire lo dico soprattutto ai ragazzi diciamo della mia generazione e di qualche generazione precedente e diciamo più prossima che ha un'età più più piccola della mia perché sono più che convinto che mai come adesso anche rispetto a tutto quello che sta accadendo c'è bisogno di costruire una nuova classe dirigente che abbia una forma mentis legata se volete anche all'impresa e dal punto di vista economico e dal punto di vista dell'impresa Italia che deve essere portata avanti ma non si può più nemmeno immaginare che una una Sicilia o un'Italia possa essere portata avanti da chi pensa due anni prima se si deve candidare o non si deve candidare e magari ancora prima non sapeva dove andare a finire per essere candidato alla fine qualcosa ha trovato ma lei pensa che sia politica questa ma chi ci ascolta pensa che sia politica ci si preoccupi di scrivere e poi di realizzare esattamente ciò che si è scritto con gli strumenti che le istituzioni e che le e che la politica dà per poter fare cambiamenti e ci si candida per poter fare quei cambiamenti perché se non sa che cosa succederà caro direttore succederà che i soliti volponi che ci pensano due anni prima continueranno a spacciare per politica i propri movimenti personali e coloro i quali questo per intenderci si sono presentati come il nuovo alla fine il risultato fuori stato che si sono presentati e si sono dimostrati forse anche peggio di quelli che avevano combattuto tant'è che poi ci fanno i governi assieme e non basterà dire e vabbè però noi ci prendiamo eh ci tratteniamo soltanto la metà dello stipendio ma che vuol dire che che avete responsabilità a metà e da questo punto consegnate anche l'altra metà e chiudiamola qui voglio dire che c'è bisogno di prospettiva anche a livello locale per cui caruso allora caruso non credi a queste candidature di cui si fanno genomi mazzara del vallo radio politica attraverso delle intercettazioni ha intuito che saranno circa cinque i mazzarese che andranno eh alle elezioni regionale in candidatura si parla però non si capisce chi sta a centro chi sta a destra e chi sta a sud. Benissimo questo è un altro problema perché vede quello che dice ne io mica non ci credo io sono preoccupato e ci credo proprio siccome credo che sia così sono preoccupato proprio per questo io non sento parlare di ehm di contenuti non c'è qualcuno che dice io mi voglio candidare perché immagino di poter contribuire a questa storia intanto io mi voglio candidare da qualche parte mi devo candidare e poi si vede questa non è politica e mi preoccupo che il numero delle persone che immagino di seguire questo tipo di ragionamento siano forse anche più di quelli che dice lei. Questa è la preoccupazione. Non so se se ho reso bene eh l'idea. Assolutamente sì. E guardi quello che ha detto lei poco fa non è una cosa di poco conto perché non si può spacciare per politica la capacità di passare da una parte all'altra come se nulla fosse perché che io ricordi la politica è un valore dell'uomo della vita dell'uomo che si può applicare in politica e non si può rispondere che la mancanza di coerenza è giustificata dal fatto che non esiste il vincolo di mandato. Stiamo attenti perché se fosse stato così coloro i quali hanno fatto centocinquantamila giravolte non vedrebbero la loro fiducia eh eh in qualche modo calare oltre che nei sondaggi anche nelle urni. Peggio ancora se viene qualcuno e mi dice vabbè ma io me ne frego se ho fatto tanti saltelli da una parte all'altra perché io la penso così. Ma non è che me la può spacciare per politica. Questa a casa mia non è politica. Poi attenzione eh ognuno è libero di fare eh i propri ragionamenti ma io vedo troppi cambiamenti repentini non vedi non vedo dei travagli inferiori. Questa non è politica. Questa è un'altra cosa dove non c'è la passione non c'è politica. Direttore c'è un'altra cosa. Eppure accade in quasi tutti i colori politici e questo di cui stiamo parlando Caruso ed è un fatto davvero grave. Iniziamo a scendere giù. Governo regionale. Adesso avviciniamoci alla provincia soprattutto a Mazzara del Vallo che tra l'altro lei ne è stato consigliere comunale per dieci anni eh sempre nella maggioranza conosce cose e fatti eh del comune di Mazzara avendo fatto parte del ruolo dell'amministrazione. Allora sentiamo eh questo mazzarese che non non è ristoratore a un supermercato. Allora buon pomeriggio Piero, buon pomeriggio signor Caruso, sono un piccolo imprenditore titolare di un supermercato il quale non potendo in questo momento distribuire volantini avevo intenzione di fare affissioni pubbliche pagando il dovuto. Mi sono informato su come fare e mi hanno dato dei contatti telefonici dei dipendenti addetti a a ciò visto che in questo momento di emergenza sanitaria sono costretti a lavorare a Mazzara ovviamente parliamo del comune Mazzara a lavorare da casa. Tra ieri e oggi ho fatto decine e anche di più di chiamate ai diversi numeri e qui non è cambiato eh niente nel senso che questo signore da libero cittadino vuole fare la pubblicità al suo supermercato vuole pagare le tasse. Hai il problema che hanno le questo signore che io ancora che forse non conosco personalmente ma mi fa piacere abbia voluto rivolgere nel supermercato micro. Benissimo. Dicevo lo ringrazio anche per aver avuto per avermi dato il piacere di riceverle una sua una sua domanda un suo problema. Io non posso personalmente risolvergli questo problema perché non lavoro al comune non sono addetto al comune sono un libero cittadino e sono un imprenditore tanto quanto immagino il signor Cusumano ma quello che scrive il signor Cusumano è una dimostrazione pratica della difficoltà di un'impresa che viaggia a velocità della luce rispetto ad un'amministrazione. Questo signore ha al momento un problema pratico non può fare il volantinaggio vuol farsi la pubblicità vuol farsi la pubblicità per la propria azienda e non gli risponde nessuno da parte del pubblico per poter appendere due manifesti ma lei si rende conto si rende conto che gli riserva su focus io ascoltavo una trasmissione dove si lavora per conquistare altri pianeti e non si possono appendere due manifesti pubblicitari perché non ti risponde nessuno da quel che racconta il signor Cusumano. Perché il comunale lavorando in smart working lui asserisce che ha dei numeri di cellulare e purtroppo non risponde nessuno. L'unica cosa che può fare è vedere se ci sono dei numeri sul portale istituzionale del comune di Mazzarra del Vallo vedere se ci sono delle mail dedicate al lavoro di smart working e l'unica cosa che può fare nonostante immagino per poi appendere i manifesti dovrà in qualche modo materialmente portare i manifesti all'ufficio a fissione per poter pagare il bollettino poi alla posta e potere vedere appesi i suoi manifesti. Purtroppo io posso solo comprendere la sua preoccupazione e la sua disperazione. Posso darle la mia solidarietà probabilmente finito questo bellissimo incontro avrò modo di contattarle e magari parlarne mail in privato. Questo lo farò. Questa è un'altra questione. Dicevo a proposito della coerenza di cui parlavamo prima eh se non erro eravamo rimasti alla questione dei dei passaggi e lei mi faceva presente che questo succede un po' in tutti i partiti. Guardi che questo succede un po' a tutte le persone che è tutto un tratto per un motivo o per un altro o per carità ci sono quelli che hanno un travaglio interiore e cambiano idea ci sono quelli che sono avvezzi a questa pratica e vanno cambiando da una parte all'altra tanto da dimostrarsi affezionati all'asta più che alla bandiera così possono cambiare bandiera ogni quattro volta cambia il vento tanto vanno sempre l'asta in mano. Questo è quello che succede in poche parole e capisco che suscita anche il sorriso ma anche per per rompere un po' il ghiaccio dalla serietà con la quale abbiamo affrontato questi argomenti. E succede ovunque succede è successo anche a Mazzara del Valle è successo tante volte anche nelle ultime elezioni comunali ed è una cosa di un palese che fa rabbrividire. mi sembra che nessuno può dire il contrario o sbaglio se ne vogliamo parlare ma siamo disponibili. No no parliamo le paesi. No è stato chiaro a tutte le ultime elezioni di Mazzara del Vallo non hanno fatto altro che sancire se vuole in una maniera diversa ciò che in questo momento accade a Roma cioè l'incompatibilità che c'è a Roma è a specchio nella città di Mazzara del Vallo. Qua la mascherano se volete un pochettino meglio. Perché dico questo? Lo dico anche a ragione veduta. Guardi che in questo momento lo sappiamo in questo momento da un anno a questa parte più la campagna elettorale. Coloro i quali hanno partecipato alla costruzione della città negli ultimi dieci anni con il sindaco Cristaldi e con me capogruppo sono gli stessi che gli ultimi giorni prima della presentazione delle liste nonostante giuramenti di ogni tipo alla fine hanno cambiato bandiera e andandosi a inserire tra le liste il sostegno del sindaco Quinci insieme a coloro i quali negli anni in cui noi costruvamo la città non facevano altro che dire che stavamo sbagliando tutto che stavamo rovinando il paese e quindi si sono ritrovati con i loro stessi detrattori come se nulla fosse come se nulla fosse. Io non lo ritengo che sia qualcosa di serio seppur comunque poi frutto di una elezione che è democratica e ci mancherebbe. Mi permetto di dire che io non ci ho trovato e non ci trovo nulla di politico persino nel risultato elettorale. Ci ho trovato secondo il mio modesto parere soltanto una espressione numerica elettoralistica che la legge elettorale ha previsto premiando l'agglomerazione di più liste. Non c'è nulla di politico e sono più che convinto che il consiglio comunale per come è composto in questo momento numericamente cioè 24 consiglieri comunali più almeno al momento 5 assessori e il sindaco alla riprova ad un anno hanno dimostrato che nessuno di loro, questa è la mia critica politica, non ho nulla di personale, hanno dimostrato che nessuno di loro si è candidato né tantomeno si è dimostrato volente partecipare a ciò che noi abbiamo lasciato, quindi non hanno continuato sulla strada che noi abbiamo tracciato. Non mi invento nulla, le voglio fare qualche esempio per andare alla pratica di ciò che le sto dicendo. Una delle prime, dei primi, come posso dire, provvedimenti che questa amministrazione ha adottato appena eletta, quindi parliamo a ridosso dell'estate dell'anno scorso. Uno dei primi provvedimenti che hanno pensato di mettere in atto il sindaco, la sua giunta, l'assessore al turismo, era quello di chiudere il sistema museale, la nostra rete museale, per un giorno a settimana per tutta l'estate e se non fosse stato per il sottoscritto che ha fatto la sua tra virgolette polemica denuncia pubblica di quello che stava accadendo, sarebbe passato così, come se fosse tutto tranquillo e fecero marcia indietro e quindi già era il primo segno che non si continuava su una strada tracciata. L'altro fu quando hanno letteralmente cancellato la realizzazione dell'acquario, hanno cancellato la realizzazione dell'acquario che avrebbe portato splendore maggiore, più colore, sarebbe diventato un punto di riferimento. Lo hanno letteralmente cancellato e il che farà brividire, tanto quanto farà brividire l'atteggiamento di colori quali hanno lavorato insieme a me perché si potesse realizzare anche l'acquario tra le altre cose. Parlo di ex assessori, di ex consiglieri comunali che avrebbero dovuto gridare allo scandalo di fronte a questo colpo di gomma e invece erano lì ad applaudire, come se nulla fosse, rinnegando persino quello che hanno fatto loro. Ma io questo genere di atteggiamento lo posso portare anche sulla questione del bilancio. Noi abbiamo assistito all'attuale assessore del bilancio di Mazzara del Vallo insieme al sindaco che si lamentavano di avere trovato delle casse comunali vergognose, di una situazione anco più vergognosa di quanto non immaginavano. Ma l'ex assessore al bilancio ce l'hanno al loro fianco, se fosse stato veramente così, perché non lo facevano, non gli chiedevano le dimissioni seduta stante, invece di addirittura premiarlo con la vice sindacatura e con altre deleghe assessoriali. E gli ex consiglieri comunali su questo non hanno detto niente, su questo non dicono niente, anzi battono le mani. Allora vede che i termini della contraddizione in tutto questo non possono essere mascherati nemmeno da un risultato elettorale. Ecco perché dico che seppur nella differenza del momento c'è la stessa incompatibilità, così come succede a Roma anche a Mazzara del Vallo, perché poi tutti i nodi vengono al pettine e siamo arrivati al punto che non potendo più cancellare niente, ogni tanto si lanciano in proclami, in proclami assurdi che hanno di un bugiardo impressionante. Io mi riferisco per esempio uno su tutti alla questione di agenda urbana, alla questione di agenda urbana che è stato tacciato durante il Covid come un finanziamento pari a 15 milioni di euro come se fosse frutto del lavoro di questa amministrazione. Quando persino le pietre sanno, insieme sempre a tutti gli ex appartenenti, ai miei ex colleghi, tutte le pietre sanno che questo appartiene a tutto quell'insieme di milioni e milioni di euro, di progetti, di finanziamenti europei che gli abbiamo lasciato nei cassetti quando abbiamo lavorato con l'amministrazione, cristaldi. Ma che cosa ci vengono a raccontare? O se vuole in termini più di Oxford, a chi sentono sfottere? Ma di che cosa parliamo? Vogliamo parlare del mercato agroalimentare? Che mi sono sentito dire che hanno fatto l'accordo con il CNR. Ma l'accordo con il CNR è stato uno dei motivi per il quale si è potuto procedere quando c'eravamo noi a che il mercato agroalimentare diventasse nel piano terra luogo per chi era beneficiario appunto di questi spazi per il pesce e per l'agroalimentare. Il piano di sopra andava al CNR per i suoi lavori, per le sue ricerche, diventava anche un polo tecnologico e sarebbe diventato come probabilmente diventerà un polo della scienza anche attributo del lavoro che fa il CNR. Sappia, glielo dico se qualcuno ancora non lo sa, che la gestione dell'acquario sarebbe andata al CNR che avrebbe dato non solo bellezza ma avrebbe consegnato un tributo alle nostre specie ittiche e così al contempo tributo a chi per una vita i nostri marinai le nostre specie ittiche le hanno trasformate in un potentissimo polmone economico della città. Ecco vede questi sono tutti elementi che denotano un comportamento che non ha nulla di virtuoso e voglio ricordare che questa amministrazione non ha preso in mano una città come ce la siamo ritrovata noi dieci anni fa che era ridotta ai minimi termini. Noi abbiamo consegnato un intero gioiello, noi abbiamo consegnato un centro storico dove tantissime associazioni compreso la sua si può freggiare di organizzare piccoli o grandi eventi che siano. Noi non abbiamo lasciato un comune in condizioni pietose, gli abbiamo consegnato un gioiello pronto, confezionato con un nome e un cognome Mazzara del Vallo conosciuto a livello internazionale per la propaganda che ne abbiamo fatto oltre i nostri confini e per chi abbiamo portato di livello internazionale dentro i nostri confini sul campo dell'arte con i messaggi per la pace comprende Rawat, con le grandi organizzazioni che abbiamo dato al Blue Sealand. Noi che noi fossimo organizzatori, ma noi abbiamo consentito per esempio al Blue Sealand che scegliesse la città di Mazzara del Vallo per il grande lavoro che è stato fatto all'interno del centro storico, nella spiaggia e ovunque perché dove c'è vista non ci vuole prova e non si può rinnegare tutto questo né tantomeno si può fare in maniera ancora più becera fare finta che tutto quello che verrà in forma di finanziamenti europei sono frutto di un lavoro che questi signori non sanno manco da dove vengono. Mi sembra, mi sembra, mi sembra, è pur vero che il sindaco Quincy amministra da quasi un anno si può dire, compreso campagna elettorale, anzi meno di un anno. Attenzione, è avuto anche il problema Covid. Ora, quello che dico io, non si può fare un rapporto con quello che ha avuto l'amministrazione Cristaldi che ha governato la città per dieci anni. Cioè, ma questa amministrazione Quincy, cosa ha fatto di buono secondo lei? Guardi, se l'amministrazione Quincy vuol fare qualcosa di buono è bene che continui sulla strada che noi abbiamo tracciato e che continui a ringraziare chi gli ha fatto trovare nei cassetti milioni e milioni di euro di finanziamenti che si chiamano agenda urbana e che si chiamano per esempio area vasta. E non si può dire però che questo periodo di Covid è un problema, perché un giorno può essere un problema, un giorno non lo è, perché quando io le ho parlato in riferimento all'agenda urbana, questa è stata un'uscita giornalistica chiara da parte dell'assessore, penso, mi ricordo, forse lo sviluppo economico del dottor Salvatore Quincy, quindi del nostro sindaco, che ha scritto, che ha detto in formula giornalistica, io l'ho letto lì, e ha detto che durante il periodo di Covid, nonostante il periodo di Covid abbiamo lavorato per recuperare i milioni di agenda urbana, il mondo è fermo, l'Europa è ferma, ma voi a chi l'ha raccontata questa bugia? Quindi cerchiamo di mettere i puntini su lei, io mi creda, rimango certe volte allibito di tutto quello che è stato fatto finora, io ricordo un periodo che gli abbiamo lasciato, gli abbiamo lasciato una città organizzatissima dal punto di vista della raccolta differenziata e abbiamo avuto i grandi problemi nuovamente per raccogliere la spazzatura, c'era una mancanza di pulizia visibile a tutti, tranne agli occhi di chi faceva finta di non vedere, abbiamo consegnato un centro storico spettacolare, abbiamo consegnato un vero e proprio gioiello, le opere pubbliche che sono state approvate sono praticamente le nostre, sono praticamente le nostre e sono sempre, tutte si può dire in qualche modo, sono tutte quelle che quando c'eravamo noi l'opposizione le bocciava perché diceva che c'era mancanza di programmazione, ora l'opposizione insieme a qualcuno degli effetti nostri si trova al governo della città e approva le stesse opere pubbliche, ma sto Walzer mi sembra un pochettino, eh vogliamo dirlo? Questa è la situazione cos'attivo fuori di quello che è stato fatto, quello che è stato annunciato in Pomba Magna. Del fiume Mazzaro, del fiume Mazzaro cosa vuole dire? Sì. Mi faccio finire, la possibile realizzazione di una piscina comunale che costerà 3 milioni e rotti mila euro e volevano farcelo passare come un finanziamento recuperato chissà dove? Non è vero, è un autentico debito che il comune dovrà ritornare al credito sportivo tramite la cassa chiedendo i soldi, dovendo rimpinguare in qualche modo la cassa depositi e prestiti, quindi è un mutuo. Questo ci hanno portato. E chi è che ce l'ha portato? Questo sindaco insieme all'assessore allo sport. Chi è l'assessore allo sport? L'assessore Billardelli, l'ex assessore comunale al bilancio. Lo stesso che durante questa amministrazione è stato tra virgolette è tacciato di avere consegnato a questo sindaco le casse in rosso. Ma come? Le casse sono in rosso? Eh ma allora come fate a fare debiti di questo tipo? Insomma, capisce bene che le domande sono seppur elementari, ma perché elementare anche la discussione su cose che sono tremendamente palesi. Queste sono domande che mi pongo, ma in fin dei conti sono domande che ci poniamo un pochettino tutti. Ora, voglio continuare su una tracciata bene. Se non torniamo indietro, se non torniamo indietro, che problema c'è? Caruso, questo è un messaggio che manda l'amministrazione comunale? Guardi, questo è un messaggio che io mando alla città. Se l'amministrazione comunale lo vuol cogliere, lo colga, perché poi sarà la città a soffrirne di queste mancanze. Io in questi mesi sono stato in giro per il centro storico, ho avuto modo di fare delle video denunce su una situazione di abbandono e di incuria. E non è che possiamo dire che sono sempre gli incivili, perché il fenomeno dell'inciviltà ce l'avevamo anche noi, ma lo abbiamo combattuto, lo abbiamo sopito, lo abbiamo fatto addormentare. Ma se tu poi abbandoni, se poi tu lasci le cose correre, lasci tutto così all'incuria, l'incivile ritorna e recupera spazi e si riappropria di luoghi che tu gli hai sottratto. Noi abbiamo sottratto luoghi agli incivili, a quella parte resistente, per consegnarli al turista, alla bellezza, alla cultura. Questo vogliamo che si faccia. Cosa stiamo, cosa si chiede di assurdo, ma capisco pure che c'è una certa difficoltà a riconoscere meriti che non si hanno, ma si abbia meno la dignità, lo si faccia anche in maniera, come piace a loro, moderata, poco poco, piano piano, sobriamente. Ma si faccia e se non sono in grado di farli, va bene. Ma allora vuol dire che ci dobbiamo organizzare per riportare tutto in pristino a Stato e ci mancherebbe, con tutta la democrazia che ci ha sempre contraddistinti. Perché io rispetto tutti, però mi sia anche consentito di non condividere argomentando. E se c'è qualcuno che pensi che ho detto qualche fannonia, io posso anche pubblicare qualche video del centro storico che ho fatto, tempo addietro. No, no, assolutamente, noi diciamo che diamo il diritto di replica all'amministrazione comunale, al signor sindaco, al vice sindaco che è stato menzionato, ad altri assessori, chi vuole intervenire? Noi siamo la voce del popolo, noi siamo liberi, non siamo un giornale. Ma ci mancherebbe, non ci mancherebbe. Faccio a tutte per diritto di replica, ripeto, il sindaco è invitato anche eventualmente a contattarci per rispondere al qui presente Gianpaolo Caruso. Gianpaolo, Porto di Mazzara, cimitero e ospedale, in sintesi, e chiudiamo. Porto di Mazzara, posso dire che sono stato come capogruppo in consiglio comunale, un uomo, qualcuno che non si è preoccupato di chi fosse il presidente della regione di turno in merito all'escavazione del porto, perché mi sono tante volte arrabbiato e ho combattuto tantissimo perché dovevo farlo per la mia città, al di là delle posizioni politiche o ideologiche e cose di questo tipo. Il risultato qual è stato? Che sono passati dieci anni e nonostante il sindaco Cristaldi, allora parlamentare, era riuscito a recuperare un finanziamento presso lo Stato di circa 8-10 milioni di euro e tramite l'accordo di programma quadro aveva reso 2 milioni e 200 mila euro di questi immediatamente disponibili e spendibili, siamo arrivati per tutte le vicissitudini legate anche all'uccellino di turno ad un porto che non si scava da dieci anni, un porto che non si scavava da dieci anni e sono stato invitato io, il presidente del consiglio comunale Vito Gancitano, il consigliere Bonmarito e l'ex assessore e l'ex consigliere comunale Giuseppe Giacalone, siamo stati invitati a pochi giorni dall'ultimo consiglio comunale aperto in merito all'escalazione del fiume, siamo stati invitati dal presidente Musumeci, il quale ci disse che il problema era tra virgolette diciamo risolto, non c'era più bisogno di nulla perché si sarebbe proceduto con un maxiprogetto di milioni e milioni di euro che avrebbe scavato tutto il porto tramite una operazione di soil washing. E si parlava se non mi sbaglio di 20 milioni di euro. 25 milioni e l'indomani quando ha partecipato, l'indomani o due giorni dopo, quando ha partecipato ad una manifestazione arrivo gli ha parlato di 15 milioni di euro, quelli che sono. Io al consiglio comunale aperto mi sono preoccupato che intanto mentre recuperavano i 15 milioni a chiacchiere, mentre recuperavano tutte queste operazioni di soil washing per cui lavavano i fanghi e poi i fanghi puliti potevano servire per ripascire tutte le spiagge del mondo, mi preoccupavo intanto di far iniziare l'escavazione con i soldi che avevamo recuperato presso lo Stato. E mi sono chiesto quando alla fine questa escavazione, se inizia, me lo voglio vedere, inizierà con appena 800 mila euro su 2 milioni e 2 legati proprio alla tecnica dell'escavazione perché il resto dei soldi si sono persi in progetti vari, il risultato è che i soldi che avevamo trovati noi vi hanno fatti diventare quasi inutili, toglieranno qualche cucchiaino e la promessa che c'era stata fatta del soil washing, ripeto, è rimasta tutta campata in aria. Allora mi sono chiesto già e lo chiedo nuovamente ora, tutti quelli che sapevano di questo soil washing, guardate che è tutto registrato nel Consiglio Comunale Aperto l'ultimo che è stato fatto, anche perché l'ultimo Consiglio Comunale Aperto è stato chiesto grazie alla redazione da parte mia di un ordine del giorno che riguarda questo, è stato preso l'ordine del giorno e con questo è stato chiesto il Consiglio Comunale Aperto. Quindi so perfettamente di cosa parliamo, ne abbiamo parlato anche sui sui giornali. Il risultato è che ancora questo porto non si scava, se si scava è con il rimasuglio dei soldi che ci avevamo messo noi e i 15 milioni per il soil washing nessuno sa che fine abbiano fatto. Io lo sapevo prima che era soltanto una chiacchiera, ma quelli che erano con me dal presidente della regione quando hanno avuto la possibilità di incontrarlo alla consegna dei lavori lì alla capitaniera di Porto? Perché non gliel'hanno chiesto dove sono questi soldi? Che fine ha fatto? Non gliel'avete chiesto dove sono i 15 milioni di euro per scavare il porto? E questa è la questione del porto e nessuno si azzardi a dire che questo porto viene scavato grazie all'intervento di chi? Grazie all'intervento di chi dopo dieci anni? Tutti quelli che avrebbero potuto intervenire anche a livello regionali, a livello nazionale, a livello ministeriale, io parlo dei nostri deputati del Movimento 5 Stelle o dei suoi ex, dei nostri ministri e anche di quelli che stanno nelle segreterie di altri partiti in dieci anni perché non hanno smosso Mariemonti? Perché non doveva succedere tutto questo? Punto di domanda, ce lo domandiamo tutti, no? Avrebbero potuto tutti prodicarsi perché l'inizio dei lavori avvenisse immediatamente e invece ancora deve avvenire tra dieci anni e questo è la parte del porto. Poi abbiamo saputo dei problemi che sono accaduti per il motivo per cui adesso i lavori sono bloccati e lo sappiamo tutti, no? No, ma questo ci mancherebbe, problemi su problemi, problemi su controproblemi, il risultato? Dieci anni e il fango è ancora tutto qua, con tutte le motivazioni che per anni abbiamo denunciato, ma non solo a chiacchiere, ci sono le carte che parlano, quindi non mi vengono a fare... Passiamo all'altro punto, Caruso, perché così abbiamo cinque minuti a disposizione perché abbiamo sforato il tempo, è stato bello sentire. Anche per me. Mi chiedevi il... Cimitero o lo spedale? E chiudiamo. Sì, cosa vuoi dire? Cosa volevi chiedermi in proposito? In genere, l'attuale situazione del cimitero, da quando c'è stata la giunta Cristaldi, che sono cambiati anche i prezzi dei loculi, se non erro, c'è stata una rimodulazione, no? A livello burocratico ad oggi. Ma guardi, l'unica cosa che posso dirti, Piero, è che questa amministrazione comunale ha le responsabilità che avrebbe qualsiasi altra amministrazione al posto ruolo. Se loro pensano di poter fare meglio di quanto abbiamo fatto noi, siamo tutti qui ad aspettare che lo facciano. Lo facciano nelle formule dei cambiamenti dei regolamenti, lo facciano con delle pratiche diverse. Facciano loro, io penso che molto semplicemente, il nostro cimitero è un luogo che deve stare pulito e deve essere consono e preparato sempre alle viste delle persone. Questa è la questione di base. Poi ci sono delle organizzazioni interne, in termini di monetari per l'acquisto dei loculi, nell'organizzazione di come dovevano essere acquistati. E queste sono delle cose pratiche che si deve vedere. L'amministrazione attuale con la sua maggioranza di governo e dopodiché le deve demandare al Consiglio Comunale che se le deve eleggere. Se vuole le emenda e le sistema. Sono cose, credo, abbastanza tecniche. E per quanto riguarda invece l'ospedale di Mazzara del Vallo, io sono sempre stato un sostenitore della qualità dell'ospedale. Io ho sempre sostenuto, e non ho motivo di cambiare idea, che l'ospedale di Mazzara del Vallo deve chiamarsi così perché deve avere all'interno una qualità tale che se ne possa parlare, tra virgolette, nel mondo. Perché la qualità e l'eccellenza della capacità di ospedalizzare la gente, per qualsiasi motivo abbia bisogno, riuscirebbe a travalicare persino una struttura, tra virgolette, fatiscente. Mettiamola così. Ovviamente non è il caso di Mazzara. E quindi, motivando l'importanza della qualità del nostro ospedale e di chi ci lavora a tutti i livelli, si rende onore alla grande professione della medicina e dell'infermeria a tutti i livelli, così come si rende onore a quella spesa pubblica di milioni e milioni di euro che hanno consentito di avere una struttura tale, seppur nella riorganizzazione sanitaria appunto della sanità siciliana. Questa è la questione principe ed è la questione cardine di tutta la questione, che io ho già avuto motivo di sostenere tante volte anche in trasmissione. È questione di qualità, è questione di qualità. E' tutta lì la questione. Noi ci aspettiamo di arrivare lì con un problema e se Dio vuole con l'aiuto e la forza dei medici usciamo da lì con il problema risolto. Questo è quello che deve avere il funzionamento dell'ospedale. Se si guarda questo non si può che fare le scelte migliori. Strutturali dal punto di vista della struttura funzionante fisica dell'ospedale, oltre che ovviamente dal punto di vista strutturale dell'apparato medico-sanitario, che io voglio anche ringraziare per il lavoro che hanno fatto finora, per quello che faranno, perché io ho fiducia nelle forze della sanità, che sono quell'altra parte di sicurezza della persona, che c'è sempre quando ne abbiamo bisogno e io sono convinto che bisogna anche dargli molto più rispetto di quanto non se ne sia dato finora. Caruso, e allora, chiudiamo. Sì. Da grande cosa vuole fare Caruso? Ovviamente mi riferisco al pianeta della politica, no? Piero, dico la verità, io non ho mai immaginato di fare niente di diverso di quello che non abbia fatto finora. Questo lo dico in merito alla coerenza che ho sempre avuto nella mia vita. Immagino sicuramente di continuare a fare politica e voglio augurarmi di potere continuare a fare politica nei luoghi dei contenuti a cui facevo riferimento poco fa e di cui abbiamo parlato insieme e ti ringrazio ancora durante tutta questa chiacchierata. Io penso che la politica abbia bisogno di contenuti, io penso che la politica abbia bisogno di persone che apportino contenuti per renderla nobile così per come è nata. Tutto il resto appartiene a qualcosa che bisogna debellare in qualche modo o comunque combattere. Personalmente penso di fare ciò che eventualmente la gente, come sul dirsi, il popolo vorrà che io faccia il loro nome. Ecco perché dicevo né più né meno rispetto a quello che ho fatto ora. Perché è lo spirito legato alla politica che mi guida e non è la politica che guida il mio spirito. Quindi sono disponibile a discutere su contenuti perché questi diventino l'acceleratore del progresso della nostra terra, della nostra gente, del nostro popolo e della nostra comunità. E se dovesse servire da questo punto di vista una persona che come me continua a metterci la faccia, la firma e la propria bandiera, io non mi sono mai tirato indietro e figurarsi se mi tiro indietro di fronte a chi pensa di contrapporre a tutto questo quattro aste, mille bandiere e i giochi dei molta gabbana. Anzi, per la verità, di fronte a questo io mi esalto. Grazie Gianpaolo Caruso. Abbiamo fatto un bell'incontro, puntini puntini, come ci titoliamo noi. Ovviamente questa intervista per chi se l'è persa la rivedrà in repliche sui social e su YouTube di Vidi Mazzara. Grazie Gianpaolo Caruso. Grazie Piero, grazie a tutti coloro i quali hanno avuto, mi hanno dedicato la loro attenzione. Grazie a tutti, grazie, alla prossima. Ciao Piero, grazie. Ciao, grazie a te. Ciao, grazie a te. Ciao, grazie a te.